90 sono gli anni trascorsi dalla nascita del prevosto parroco emerito Monsignor Carmelo Maglia, nato l'8 agosto 1925 alle 19, nella casa Civico 22 di Via Vittorio Emanuele a Biancavilla, da Salvatore e Giuseppina Pulvirenti, quest'ultima scomparsa l'anno successivo il 22 agosto. Così il canonico Maglia nella sua omelia proferita il 4 novembre 1989, nel giorno della sua presa di possesso in Basilica, dove raccontò ai fedeli un breve tratto della sua biografia. Provento da una famiglia che ha coltivato la terra, che con lavoro passivo, faticoso e onesto mi ha cresciuto del meno bene. Tante cose non ricordano mio padre, fino a tardi età, in dentro tra i boschi della nostra montagna a coltivare un'antepi e l'india. Nel 35 a 10 anni, entrai nel piccolo sindaco, dove conosco il cuore meraviglioso del suo fondatore e autore, padre Pagino Caserno, innamorando delle cose belle e al mortio del suo sacerdotio. E questa sera, nella Basilica Collegiata Santa Maria dell'Elemosina a Biancavilla, il prevosto Agrippino Salerno ha celebrato la Santa Messa Vespertina della diciannovesima domenica del tempo ordinario in suffragio del suo predecessore e padre spirituale.